Noi abbiamo i piccoli centri urbani che stanno per essere spopolati, un po' perché molti ragazzi lo dicevate, si diceva prima, 120.000 giovani laureati, formati con i nostri soldi ogni anno vanno all'estero, 120.000 ogni anno e ci sono i piccoli centri che rischiano di perdere i grandi servizi. Potremmo fare riferimento per esempio alle banche che oggi con una popolazione molto anziana dicono tu devi utilizzare lo smartphone, devi utilizzare le applicazioni, non tutti sono in grado di farlo e aggiungo sempre a proposito della desertificazione bancaria che è stato oggetto anche di un'indagine nella nostra struttura, nella nostra categoria, ma siamo sicuri che le banche non siano in grado di svolgere una funzione di consulenza sul territorio rispetto allo sviluppo economico, rispetto all'aiuto che ci può essere per esempio per fare nuove aziende, perché la logica è sempre quella dell'utile a tutti i costi e nel caso delle banche ci sarebbe tanto da discutere. Lei ha sbirciato, segretario, nella scaletta, non lo mandiamo, facciamo un'altra puntata su questo perché avevamo costruito un pezzo esattamente sulle banche, ma lo vedremo in un'altra puntata. Una manifestazione itinerante nei piccoli centri perché le banche chiudono gli sportelli e ovviamente questo diventa il problema. Era esattamente il nostro servizio ma non abbiamo tempo, lo faremo segretario se vorrà perché questo è un grande tema, è un grande tema.